Partono questo venerdì 5 gennaio e proseguiranno fino al primo di marzo i saldi in Piemonte. Sarà in media di 130 euro la spesa pro capite, una cifra in leggero calo rispetto alla scorsa stagione, mentre è in aumento dal 40 al 44% la percentuale dei consumatori che dichiara di voler approfittare degli sconti. L'abbigliamento continua a essere scelto da oltre 8 consumatori su 10, il resto si orienta verso l'elettronica e gli accessori per la casa. Un momento importante che arriva dopo le vendite natalizie. I nostri negozianti hanno arrancato un po' ma hanno lavorato abbastanza bene per i regali di Natale, spiega il presidente di Confcommercio VCO Massimo Sartoretti. Prosegue. Le persone hanno ripreso a voler toccare con mano gli acquisti, i dati in nostro possesso ci dicono che cresce l'online, ma più a scapito di grandi catene e outlet, bene invece i negozi di vicinato, quelli sotto casa e di paese. Insomma, si torna a cercare il contatto anche con il negoziante con la sua esperienza e professionalità, magari a caccia di consigli e di oggetti un po' di nicchia. Ci auguriamo che tutti i commercianti si comportino correttamente in queste settimane di sconti, con il prezzo di acquisto originale e il saldo. C'è comunque vigilanza, aggiunge Sartoretti. Un'importante fetta dei nostri acquirenti è rappresentata poi dagli stranieri, nel periodo degli sconti così come in quello prenatalizio. A Domodossola, per esempio, nei negozi e in occasione dei mercatini, ha concluso il presidente di Confcommercio VCO, abbiamo visto accanto agli svizzeri, che comunque sono la maggioranza degli stranieri presenti, anche diversi americani, olandesi e tedeschi.